Cara Mediaset, carissimi tutti, sento il bisogno di scrivervi perché so quanto era importante per mio padre farvi sapere l'amore e il grande orgoglio che ha sempre provato per la nostra azienda e per tutti noi. Non ci sono parole per descrivere la mia emozione ogni volta che mi diceva sono orgoglioso di te e di quello che fai e io ho sempre saputo benissimo che si rivolgeva a tutti noi. Io da solo non avrei potuto fare nulla, nulla. È stato un uomo che ha dato tanto, tantissimo, che ha creato tantissimo e ha sempre considerato la nostra azienda come una sua amatissima creatura. Il mio papà, il nostro fondatore, vi ha sempre amato tutti, uno per uno. E adesso il nostro dovere è seguire la sua impronta indelebile, lavorare, lavorare, lavorare con entusiasmo e rispetto. Oggi dobbiamo guardare avanti e impegnarci ancora di più, sempre di più. Dobbiamo costruire un gruppo ancora più forte e ancora più vivo. Lo dobbiamo fare per Mediaset, lo dobbiamo fare per tutti noi, ma soprattutto lo vogliamo fare per lui. Vi abbraccio forte, siete nel mio cuore e sarete per sempre nel suo cuore. Pier Silvio. Grazie. Grazie. Grazie.